bentornati a radio radio design sto facendo brand pitt effettivamente brand pitt ho fatto un serie di collegamenti malati nella mente oggi torniamo con questo fantastico programma ideato scritto creato diretto scenografia fotografia di elisabetta e riempia non è mia avrei settato meglio le luci probabilmente sì perché sono ci sarebbe questo effetto blair sulla mia testa buonasera e buon anno ragazzi siamo tornati nella buona esatto esatto nuovi rinnovati fantastici auguri non ci perdiamo in chiacchiere abbiamo già fatto per 44 secondi quindi vi diciamo subito che oggi parleremo di una grandissima azienda che ha che è presente in tutte le vostre vite si chiama monella vagabonda no si chiama amazon ragazzi o come direbbe mia nonna nonna enni amazzo ecco parliamo di amazzo che non è l'amazzonia ma forse anche sì questo ce lo dice ce lo dice ce lo dirà ce lo dirà elisabetta oggi io e l'italiano siamo molto carenti cosa dire prima di dare lo spazio elisabetta per raccontare l'origine di questo nome fantastico abbastanza eloquente suppongo però poi ce lo dirà lei veramente un'azienda che conoscete tutti un'azienda che è nata nel 94 quindi con mia sorella ecco poco prima di elisabetta e tutte le aziende che sono mie coetane perché sono aziende digitali aziende moderne aziende innovative belle giovani innovative creative 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 soprattutto come una coca cola che ha 100 anni boia allora amazon partiamo perché si chiama amazon allora ragazzi qua c'è una storia incredibile dietro questo nome perché praticamente all'inizio si chiamava con un nome un po un po un po 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 di merda diciamo c'è la tutta si chiamava cadabra che sorprendentemente è l'abbreviazione di abracadabra ma dai però un giorno un tale avvocato che non so che spessore avesse all'interno dell'azienda però una volta questo qua capisce cadavere cadavere anziché cadabra e io penso che avesse qualche problema di udito però le persone dicono opla qua se c'è questo misunderstanding forse il caso di cambiare nome sia mai la cadabra a cadaver e allora dato questo questa volontà sono partiti con dei nomi altrettanto di merda quindi sono passati da ma che il so era una delle proposte browse.com un'altra e bookmall.com un'altra ancora insomma non è che se la cavassero tanto bene in quanto a copywriting mi sta chiamando mia sorella che saluto in diretta ma non ti posso rispondere se voi possiamo collegarlo in diretta e chiedere un'opinione su amazon sarebbe divertente rispondo facciamo questa cosa vai vai collegano al microfono vai come faccio mettilo vicino sei in diretta radio saluta ciao eti ci sentiamo ti hai ridetto lo stesso modo ciao sentivo solo un lamento prolungato temo di averle riattaccate in faccia vabbè grandi momenti andiamo avanti grandi momenti comunque stavamo parlando di del nome di amazon allora tra quel secondo nome che hai detto sembra il nome che si dà a quei tagliacapè tagliabarba browse.com si browse browse.com scegli browse.com browse for deine barba da 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 e ben e ben allora tutta sta sfezza di nomi davanti lui dice non mi piace allora cosa fa cosa fa decide di affidarsi al dizionario un po' in stile data un po' in stile data sai come hanno fatto i dadisti da 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 hanno aperto il dizionario prima parola quello ecco come fanno come fanno anche oggi per scegliere i nomi dei locali esatto lui ha adottato un approccio un po' più un po' più serioso quindi voleva applicare un criterio un criterio allora cosa andiamo da am andiamo da am no lui ha detto lui Jeff Bezos lui Jeff Bezos Bezos come l'ho letto io prima quando prendevo gli appunti Bezos cosa ha deciso di fare Bezos ha deciso che nel nome doveva per forza esserci un A e una Z appunto per rimandare a questa al fatto che Amazon che inizialmente era un shop online di libri se non sbaglio esatto che Amazon appunto aveva tutta la varietà di libri possibile dall'A alla Z quindi voleva per forza che ci fossero l'A e la Z dentro il nome quindi trova Amazon che è il nome del fiume più grande del mondo e così i competitors voilà perché un nome così non si era mai visto poi appare anche subito perché ce l'ha tac tac quindi Amazon che è appunto il rio delle Amazon per i sciocchi per gli sciocchi che non sappiamo noi non l'abbiamo cercato la traduzione italiana di Amazon noi non l'abbiamo cercato su Google ebbene il nome è finito è vero ricordiamolo ricordiamo un po' i primi passi allora visto che hai raccontato un pochino qualcosa degli inizi di questa grandissima azienda che ormai fa parte di tutti noi vogliamo ricordare che l'anno di nascita abbiamo detto 1994 e casualmente secondo la coniugazione degli astri poi tua sorella che è nata nel 94 ha chiamato incredibile incredibile proprio non l'abbiamo chissà cosa direbbe Paolo Fox non l'abbiamo deciso che segno è tua sorella è vergine ecco i vergine nati nel 94 leggono un sacco di libri la verità è questa perché sono nel segno dell'Amazon probabilmente beh mia sorella in effetti beh stai dicendo una cavolata ok no perché si sa mai allora come che cosa fa zio Bezos a un certo punto Bezos Bezos cosa fa James Bezos che a un certo punto diventa portoghese abbiamo deciso così probabilmente avrà origini portoghese perché è un cognome molto brasileiro eh non volevo fare una battuta non la faccio comunque cosa fa a 30 anni a un certo punto lui è un amministratore delegato di un'azienda a New York si rompe il cazzo come fanno tanti basta me ne vado vado a Bellevue eh a Washington che è dall'altra parte la East Coast vicino alla California dove c'è la gente figa i surfisti la gente bella gente con un sacco di capelli vorrei ricordarlo chi sa che faccia Bezos è brutto come adesso che cosa fa dice allora apre questo sostanzialmente questo e-commerce tra le prime esperienze di e-commerce e decide di puntare subito su una serie di prodotti che in base alle statistiche vendevano di più che erano le pelate ecco le persone serie e intelligenti sono tutte pelate inevitabili vorrei citare altri famosi pelati ma Lino Banfi nominato rappresentante Maurizio Costanzio Montemagno Montemagno sono gente seria benissimo Mussolini vabbè comunque vabbè quello non era la serie quali sono questi prodotti più venduti erano i libri i cd dvd software hardware hardware e le videocassette tu pensa infatti ha chiesto Elisabetta se si ricordasse in qualche modo dei blockbuster ha detto quella cosa blu quindi si ricorda sempre una mente molto grafica e quindi nasce proprio in quel periodo come tutte le grandi startup anche Amazon nasce in perdita perché lo sapete tutti soprattutto le startup digitali nascono in perdita almeno i primi 5-10 anni sono votati alla conquista del monopolio in un determinato settore lo stesso è accaduto per esempio per Airbnb e magari potrebbe essere la prossima puntata non so se ti piace però anche Airbnb anche Uber sono tutte aziende che al momento sono in perdita lo stesso avvenne per Amazon che rimase in perdita attenzione dal 94 fino al 2001 cioè appena 6 anni dopo Amazon riesce per la prima volta a distribuire i dividendi ai propri azionisti addirittura i primi azionisti i dividendi ai propri azionisti stai esattamente seguendo ciò che stai dicendo lo spieghiamo nel modo molto più banale nel 97 che cosa accade Amazon come tutte le aziende che devono rastrellare un po' di soldi bussano la porta della borsa ok diventano delle SPA delle società per azioni nel caso italiano ovviamente chiaro e cosa dicono guarda la nostra società ha bisogno di big money ti quote in borsa a un certo punto si lanciano le famose qui stiamo andando un discorso un po' diciamo è della nebulosa nella mia mente non capisco vabbè molto banalmente un'azienda va in borsa e chiede un sacco di soldi e li ottiene ok a quel punto però tu hai degli azionisti e a quegli azionisti poi visto che cominci a produrre degli utili devi distribuire i dividendi cioè se tu hai il 10% delle mie aziende io ti darò in percentuale su quelle aziende un tot di soldi funziona così la borsa lo spieghiamo anche voi che ci ascoltate da casa che cosa succede quindi 2001 finalmente questa azienda non è più un cartorcio ma comincia a diventare un'azienda che funziona ok e vengono introdotte anche le recensioni sui libri perché prima non c'erano ma le recensioni sono fidoneghi fidoneghi le comprano le scrivono io fidoneghi sempre prima del 2000 volevo dire che nel 98 Amazon esce dagli Stati Uniti e comincia a affacciarsi anche su l'Europa conquista altri mercati come la Gran Bretagna e la Gran Bretagna come la Germania anche ovviamente in Italia arriverà nel 2010 lo dobbiamo ricordare sempre gli ultimi di questa fantastica storia che riguarda i grandi brand però ultima cosa mi vuoi darti la palla è che nei primi anni 2000 addirittura rischia il fallimento boia boia e allora cosa succede che Jeff Bezos dice Bezos dice boia bimbi a Livorno si vendono più i libri boia e c'è da licenziare mille bimbi e quindi licenza mille persone un momento tragico un momento bruttissimo ma dalla quale poi come l'araba fenice Amazon si risolleverà e tornerà ad essere quel brand splendente splendente adesso ho diventato meridionale per un momento di cui Elisabetta ci parlerà beh è una grande lezione di vita il fatto di non abbattersi never give up never give up boia ebbene ma secondo me questo calo di Amazon è anche dovuto un po' al logo iniziale perché l'aspetto ragazzi volentornamente conta ecco e Amazon ha fatto delle caccate mostruose all'inizio allora inizialmente ha voluto un po' osare con questa A gigante con all'interno una silhouette di un fiume su sfondo acquatico so che è anche ben difficile da immaginare ma è anche difficile da guardare ragazzi perché se lo cercate fa di molto però esatto erano quelle cose un po' quegli esperimenti no però anche tu ti vestivi di merda due anni dai da due anni no verso le medie ho avuto il mio periodo però no nel senso grandi brand all'inizio per esempio ricordiamo la Starbucks aveva fatto un logo bello tutto illustrato qua hanno fatto proprio una cagata diciamocela e poi non solo ma questo sfondo acquatico che hanno inserito dietro la di Amazon l'hanno un po' variato anche ci hanno messo uno zebrato dietro anziché l'acqua l'hanno avariato esatto ci hanno messo delle fiamme insomma un po' come quando io decido come vestirmi la mattina che sonen sonen alla fine mi vesto sempre uguale insomma hanno fatto questi esperimenti pem 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 poi anche il testo alto il testo basso insomma non sapevo tanto come ficcarlo secondo me lo faceva un po' il cugino il solito nel 1998 Amazon subisce così si può dire una crescita e quindi insomma decidono di diventare un po' più seriosi nel logo quindi presentano un logotipo con le grazie che tu sai bene essere dei simboli del il font del il font che sono questi simboli è molto belli bellini di molto che prendono boia il font molto più grazioso di molto sono quelle codine simpatiche che vediamo in fondo alle lettere ecco un font del genere salutiamo il docente di progettazione grafica Daniele Pampanelli che non mi guarda mai tanto non penso sia però magari succederà succederà nel caso ciao ciao comunque e ben insomma fanno un po' di esperimenti anche così mi sorprende poi sentire che tu hai detto che nel 2000 Amazon va in fallimento perché io qua ho scritto poi nel 2000 sempre più grosso vabbè e qui molto euristica come espressione richiama diversi mondi semantici questa espressione era per capirmi con me stessa non so se ti rivolgevi a Jeff Bezos nel particolare o all'azienda no all'azienda io mi pareva avesse un'evoluzione sul sito su cui sono andata a guardare sì però tu che sei giovane non sai che a un certo punto c'è la famosa bolla delle aziende di internet nel senso che a un certo punto tutti cominciano a investire sulle aziende digitali ai dividendi esatto investono in borsa e dicono questo è il futuro questo è il futuro in realtà il mondo non è pronto per queste aziende digitali quindi proprio a ridosso del 2000 c'è un grandissimo flop una bolla si chiama che poi è avvenuta anche nel 2008 quando c'è stata una grande crisi perché bolla? è una bolla perché le persone cominciano a credere in qualcosa che invece non è veramente redditizia quindi ci buttano un sacco di soldi poi si scopre che in realtà tutti i forecast le previsioni di vendita di acquisti di crescita in azienda sono fallaci ok a quel punto poi non c'è alcun ridividendo spesso alcune aziende falliscono e quindi anche Amazon in quel caso ha subito nei primi 2000 questa famosa bolla delle aziende digitali mi spiace e questa è una parte della storia del nostro mondo che è in concomitanza anche con l'attentato alle torri gemelle che ha creato diciamo una botta un colpo di arresto all'economia mondiale basta ci fermiamo mento serio continuiamo eh caspita tu mi vai tutte queste cose stasera che ho mal di testa io mi perdono va bene io prendo per vero ciò che hai detto ogni tanto siamo persone che hanno una grande cultura dobbiamo dimostrarlo vai avanti tu in modo particolare io sono un po' latente comunque comunque allora ebbene 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 comunque nel 2000 Amazon decide comunque che è il momento della svolta in un modo o nell'altro ebbene allora dice affidiamoci un'agenzia di comunicazione per fare il logo dopo anni cosa è il caso allora si affidano all'agenzia Turner Duckworth che tradotta in italiano sarebbe Turner Anatra che vale suppongo ed è piuttosto simpatico e si affidano a loro gli dicono guarda facci un logo definitivo perché di tutti questi cambiamenti non se ne può più anche perché appunto ragazzi il logo è importante per definire l'identità di un'azienda per quanto possa sembrare una cosa marginale in realtà è molto importante momento pubblicitario contattate Elisabetta per farvi fare un logo vero è davvero importante ebbene ebbene quindi questa agenzia Turner Anatra che vale cosa fa decide di rappresentare il logotipo quindi Amazon la scritta Amazon con una freccia arancione che va dalla A alla Z riprendendo l'idea iniziale quindi di Bezos che voleva questa cosa cosa Bezos ebbene la freccia è arancione quindi rappresenta gioia energia vitalità arancione il colore più brutto del mondo io proprio non l'userei mai in un luogo però tu sei anziana perché in realtà per il neuromarketing l'arancione è il colore preferito dai giovani in realtà io so che è il meno apprezzato in generale dai giovani invece sì così dice il neuromarketing andremo a verificare bene comunque questa freccia che va dalla A alla Z fa sì che appunto la Z faccia una lieve curva verso l'alto ce l'hai presente la Z di Amazon è molto particolare perché appunto questa freccia deformando la Z ricrea quasi l'idea di un sorriso quindi un po' per appunto indicare l'esperienza felice del consumatore che acquista su Amazon giorno dopo ce l'ha e qui si aprirebbe un dibattito incredibile sul consumismo il neocapitalismo ma non ci interessa che io ho proposto Nicola facciamo questo dibattito durerà un po' di più la puntata ma non fa niente però non ha voluto non ha voluto no mi rifiuto mi rifiuto mi rifiuto ebbene ebbene e appunto Amazon poi si è creata anche il suo dignitoso fonte personale ispirato a Officina SANS che tutti conosciamo benissimo ebbene quindi insomma insomma gli hanno disegnato un logo efficace che tant'è che dal 2000 fino ad oggi è rimasto tale così pare salvo alcune variazioni però sembra che funzioni ecco e cosa è accaduto dal 2000 fino ad oggi intanto salutiamo Luce che ha messo un cuoricione su Facebook dal 2000 fino ad oggi mi è venuta la cellulite ecco cioè da quando c'hai 5 anni è stata una lenta e triste evoluzione madonna no cosa è successo no nel caso di Amazon nessuna cellulite magari cellulosa perché i pacchi sono in carta questa bellissima citazione Boila cosa è successo dal 2000 c'è stato poi salutiamo Matteo Boila salutiamo Matteo Boila dopo questa prima impasse del 2001 cosa accade piano piano Amazon comincia a crescere si espande diventa quel gigante che voi tutti conoscete ormai Amazon è diventata tra le prime tre aziende per cash flow nel mondo per quantità di denaro disponibile liquido al mondo con Amazon e Google quindi dei veri giganti ha cominciato a diversificare che vuol dire che non è semplicemente un e-commerce ma ha tantissimi business ci sarebbe da parlare bisinissi ci sarebbe da parlare per ore quali sono però state le più grandi intuizioni di Amazon intanto diventare il monopolista dell'e-commerce mondiale solo l'anno scorso calcolate che gli utenti prime degli Stati Uniti gli Stati Uniti ha circa 370 milioni di abitanti circa 100 milioni di americani sono utenti prime questo vuol dire che un terzo moment attenzione perché Amazon è un po' furbetto perché ti scrive a prime anche se non lo vuoi tipo io mi sono ritrovata con Amazon Prime non fare il grillino adesso vabbè non lo sapevi ma io non lo volevo cioè poi lo gradisco perché alla fine va comodo a tutti non è che lo volessi sono trovata lì ok vabbè a parte la tua inconsapevolezza nel ma me l'avevi detto anche tu sì e questo è verissimo perché adesso fai finta di niente perché sei davanti alla gente però in realtà che ne sai magari ci assume Amazon domani guarda magari no no vabbè a parte questo questo problemino che era il costo che li ha evitato è raddoppiato improvvisamente da un anno all'altro l'anno scorso da 19 euro a 40 39 euro circa non lo sapevi ma al mese all'anno 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 sapete tutti più o meno come funziona Prime hai degli sconti su non paghi praticamente il trasporto dei prodotti però qual è il vantaggio di Prime è il famoso concetto di Noah Fleming che è un grandissimo scrittore del marketing che ha scritto questo libro che si chiama Evergreen leggetelo tutti che spiega perché un'azienda sarà Evergreen cioè sempre verde come il tuo maglione non a caso citazione la fidelizzazione è estremamente importante Amazon l'ha sempre capito da qui è nata l'idea del di Amazon Prime su Amazon Prime per rafforzare diciamo questo concetto tra i clienti Amazon ha costruito attorno a questa idea un universo di servizi come per esempio Prime Video tu ti guardi i video su Prime? io non ho mica capito come funzioni Prime Video è un Netflix però di Amazon ci sono un sacco di serie fighe anche di film ma temo che già che paghi vattelo a vedere temo che caschi male il signor Bezos qua povero Bezos ha perso già un cliente su Prime un altro diciamo servizio fighissimo sono state come idee illuminanti sono state quelle di creare il Kindle che tu che conosci che inizialmente ragazzi doveva chiamarsi Fiona quindi in onore di un libro chiaramente che ho letto e di cui ricordo chiaramente il titolo pensavo fosse Fiona May un'atleta italiana di colore sicuramente sicuramente o Fiona della Mignotta come si dice a Roma piaceva tantissimo questa battuta anche prima pem 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 l'ha fatta bellissimo bellissimo quali sono state le altre grandi intuizioni un un oggetto ormai che sta entrando in tutte le case delle persone è entrata anche a casa di Elisabetta che cos'è Alexa Alexa esatto Amazon Echo che è chiamato come Alexa che è un assistente vocale come ti stai sentendo a casa con Alexa diciamo ragazzi che non è molto collaborativa spesso e volentieri mi piace zittirla perché poi il bello di Alexa è che se la zittisci lei deve comunque finire la parola che stava dicendo quindi la finisce velocissimo poi si spegne bellissimo però tipo ecco l'altro giorno le ho chiesto Alexa dimmi il tempo di gestazione dei gatti e lei mi ha risposto 31 gennaio alle 2 e io non ho capito e purtroppo è deludente sotto tanti altri fronti però è una cosa bellissima per ascoltare la musica per il timer quando metti sulla pasta e per ora basta perché devo ancora scoprire le diverse funzionalità diciamo che sì per esempio anche la possibilità di ascoltare i podcast le radio quindi ci potrete ascoltare con Alexa no perché dovremmo sviluppare una skills che costa 500 euro prima o poi lo faremo però diciamo che l'assistente vocale a parte gli scherzi è una grandissima evoluzione che vede in campo due grandi player che sono Amazon e Google e Google e Google e Google esatto poi ancora altre grandi invenzioni sono state a parte il Kindle quindi il lettore dei libri digitale che è una figata vi consiglio il Paperwhite che è un sogno io ce l'ho boia boia ce l'ho boia con la cover rossa boia ma ci leggi i libri boia non le scarico le scarico e basta e poi l'Amazon Dash che non è un detersivo ecco che cos'è che cos'è se voi finite su Amazon intanto troverete dei bottoni sono dei dispositivi collegati in wifi fighissimi che potete posizionare all'interno della casa e potete collegare questo dispositivo questa solita di switch di pulsante vicino a un oggetto che voi acquistate sovente quindi per esempio potete metterlo nel bagno potete collegare un Amazon Dash alla vostra che ne so shampoo quindi ogni volta che cliccate su questo bottone sostanzialmente mandate in automatico un segnale ad Amazon che carica sul carrello quel prodotto associato quindi per esempio è stato un prodotto che all'inizio ha avuto un grandissimo successo poi non almeno in Italia nel nostro caso non ha funzionato sempre sostanzialmente dovrebbe servire aiutarti a riprenotare dovrebbe avere la casa piena di sti cose da pigiare ogni volta è solo per alcuni prodotti che tu acquisti spesso cioè io tipo collego quello allo shampoo in che maniera tu associ questo bottone sostanzialmente a un prodotto mi sembra una cosa un po' superflua sì diciamo che non ha funzionato benissimo diciamo diciamocela tutta mentre diciamo per arrivare sul finale un'altra cosa fighissima è stato Amazon Go Amazon Go è l'evoluzione del supermercato è il supermercato del futuro sono i supermercati Amazon che grazie a intelligenza artificiale tracciano la presenza di un uomo all'interno del supermercato voi praticamente col vostro telefonino decidete cosa acquistare scannerizzando i QR code dei prodotti uscite tranquillamente dal supermercato portandovi via la spesa in automatico vi verrà detratto il costo di tutti gli oggetti che avete acquistato cioè praticamente è un supermercato senza i commessi esiste solo a Washington al momento infatti non so se ho capito bene ma mi sa che date le tempistiche dell'Italia avrò ancora una decina d'anni per capirlo quindi sono contento sì è una cosa molto sperimentale ma il futuro è questo c'è anche Amazon Pantry che cos'è Amazon Pantry Amazon Pantry è un Amazon Pantry è una sezione di Amazon in cui tu fai la spesa e quindi hai questo box che riempi di cose e tipo magari carichi la pasta e ti dice sei allo 0,5% del tuo box lo riempi tutto e quando l'hai riempito te lo speriscono bella idea io però ho iniziato sempre ma sono sempre arrivata al 50% poi mi sono stufata più su tutto esatto confermo anche la mia esperienza di acquisto è stata questa semplicemente perché è concepito per la famiglia per persone che acquistano un sacco di prodotti perché devi caricare fino a 20 chili eh sì ma poi non è che i prezzi siano così convenienti rispetto allo supermercato quindi per ora non c'è ancora questo Amazon non ci sta sentendo in questo momento sarebbe un una bellissima idea perché mi impedirebbe di uscire di casa per andare a fare la spesa e tutte quelle cose infatti parlare con gli esseri umani aggiungerei io esatto per pagare alla casa un casino poi permesso bello però per ora non funziona secondo me dovrebbero fare la versione box studente quindi che ci sta un pezzo di tonno un po' di pasta e va bene così sono d'accordo potrebbe funzionare aspettiamo Amazon Go prego Elisabeth allora un'ultima curiosità ne avrei voluto trovare di più ma appunto se cerchi curiosità Amazon su Google ti escono tipo i libri dieci curiosità sugli orsi polari e queste cose qua quindi purtroppo di curiosità ne ho trovato effettivamente poche una interessante divertente è che uno dei primi dipendenti di Amazon lavora instancabilmente per otto mesi all'interno di Amazon questa la trama della storia poi non ho esattamente capito perché questo qua lavora per otto mesi instancabilmente e fin qui ci siamo però dimentica la macchina sotto casa non lo so la dimentica sotto casa però io non so non aveva il parcheggio evidentemente ce l'aveva lì non lo so sta di fatto che lavora talmente tanto che dimentica la macchina sotto casa io non capisco se non tornasse a casa c'era qualche problema comunque la dimentica sotto casa e lavora talmente tanto che non riesce a leggere la posta a quanto pare perché è troppo impegnato al che non legge la posta e quando si decide finalmente a leggerla dopo mesi scopre che la sua macchina è stata rimorchiata ed è stata venduta all'asta è la fine di una storia dalla trama confusa la tristissima fine e non ho esattamente capito però una curiosità ce la volevo mettere quindi rimanete nel dubbio nella confusione con me ecco questa è la la curiosità più strana che abbiamo trovato su Amazon sostanzialmente tristemente sì mi dispiace per questo signore ma mi sai che era un po' sbattato beh direi anche io bene direi che abbiamo avuto come al solito troppa roba ci carichiamo facciamo sempre la nostra mezz'oretta non riusciamo mai ad andare sotto i 25 minuti mi ha sbagliato tutto ragazzi mi dispiace no è stato fighissimo ci sarebbe da parlare altre 26 ore su Amazon sulle loro strategie cose interessantissime potrei parlare dei brevetti che hanno a livello la diversificazione con i loro soft con i loro scusate i server di Amazon i Serben di Amazon i Senseband di Amazon che hanno avuto anche un blackout l'anno scorso no te lo ricordi tutti sono andati nel panico mi ricordo questa cosa bellissima però ci fermiamo qui a questo punto perché abbiamo dato l'assaggio di quello che poteva essere esatto esatto vi chiediamo a questo punto call to action finale vi chiediamo a questo punto com'è la vostra esperienza Amazon se bazzicate su Amazon se odiate Amazon perché rappresenta il capitalismo più sfrenato io per esempio assolutamente tu lo odi il capitalismo sfrenato il capitalismo sfrenato quanto acquista per esempio bellissima per far vedere appunto per chi una chiosa finale che vorrei fare è perché la fidelizzazione è importante torniamo serio due secondi perché a livello statistico chi è un account un account prime acquista circa 20 volte di più all'anno piuttosto che uno che non è un account c'è ragione cioè è la svolta perché appunto se hai bisogno di qualcosa sai che il giorno dopo tendenzialmente ti arriva esatto ci sarebbe da parlare dei droni che Amazon vorrebbe utilizzare per la consegna dei pacchi che è uno sperimento che è nato circa due anni fa ancora quasi impossibile per via però si dovrebbero migliorare nelle consegne secondo me sì perché adesso ci sono quei posti in cui lo consegnano gli Amazon coso Amazon lock Amazon però tipo a Perugia non c'è io non so faccio arrivare l'istituto così perché non sono mai a casa però insomma in quello si dovrebbero migliorare e secondo me un'altra cosa che dovrebbero migliorare dato che ormai tanto stiamo sforando la mezz'ora è proprio il fatto delle recensioni secondo me perché io ormai so che se un prodotto a 5 stelle comunque possono anche non essere proprio cioè può anche non essere vero perché le recensioni possono anche essere appunto comprate eccetera quindi non è più attendibile il fatto di rilasciare una recensione e spesso appunto nella scelta del prodotto in realtà è una cosa fondamentale guardare le recensioni quindi questa è una cosa che mi si mi crea disagio potrei dire anche due grandi segreti di amazon con le ciglia così le sopracciglia importante direi due grandi segreti amazon non è proprietario di tutti i prodotti che vende amazon è un marketplace non tanti lo sanno un milione di un milione due milioni di prodotti vengono venduti direttamente da amazon ma in realtà amazon è così diventato monopolista che ormai la gente che ha altri e-commerce è costretta a pagare amazon delle fee per essere presente su amazon e amazon si prende il 20% boi amazon che ha avuto appunto sempre questa crescita sempre in diciamo in debito gli ha permesso di arrivare a diventare monopolista con delle fee bassissime ma al momento oggi amazon in realtà rispetto a tutti gli altri e-commerce è quello che ti fa pagare di più i prodotti cioè se tu sei una persona che vende su amazon amazon rispetto a farti un e-commerce tuo personale ti ruberà un sacco di soldi in più questa è una cosa da sapere in più non tutti lo sanno ma amazon addirittura si fa pagare dai suoi inserzionisti per far andare in cima gli annunci e funziona un po' come google cioè se tu vuoi uscire in cima vabbè quello c'era da aspettarselo da quel mattacchione di bezos il mattacchione di bezos che si fa pagare per andare in cima sui risultati e lì c'è un grande business c'è da dirlo e sveglio il ragazzo non a caso è nato nell'anno di tua sorella amazon non bezos perché se bezos è nato nel 94 io lo sto facendo un cazzo nella mia vita praticamente bezos è nato 30 anni prima bene abbiamo esagerato vuoi fare un saluto ad amazon o jeff no io saluto volentieri la mia famiglia anche la nonna sì la nonna le nonne saluto tutti saluti luce l'alessandra sì tutti tutti quanti potete ascoltare questo podcast su spreaker su spotify su itunes su youtube nei migliori bar beh caspita che te lo dico a fare davanti a un candelabro o un camino un candelabro soprattutto acceso bene abbiamo esagerato questa volta arrivedervi arrivedervi è stato bellissimo ciao ciao bocci ciao